Avvocato Coletti, oggi c'è stato l'interrogatorio con il sostituto procuratore dottoressa Rapino. Pecorale ha parlato, ma il sostituto procuratore ha segretato gli atti. Esatto, Pecorale ha parlato, però il sostituto ha segretato gli atti. Quindi questo comporta che tutto ciò che è stato detto oggi, tutto ciò che è successo, non può essere divulgato fino a quando questo segreto rimarrà in essere. Le chiedo quali sono i prossimi passi di questa vicenda? I prossimi passi sono sostanzialmente quelli legati a una valutazione psichiatrica di Federico che erano sostanzialmente già indicati in precedenza. Quindi l'interrogatorio di oggi non cambia, non fa cambiare assolutamente questo iter. e poi dal punto di vista processuale sicuramente andremo a un abbreviato. Lei ha parlato prima della giornata di oggi con l'indagato, con Federico Pecorale. Le chiedo se si è reso conto del gesto che ha fatto e si è pentito nei confronti di Gelfrey e della sua famiglia. Sì, lui ha preso atto di quello che è successo, ha espresso il suo rammarico e sostanzialmente presumo, interpreto il pensiero che sia legato comunque a un pentimento perché comunque si è preoccupato di sapere quali erano le condizioni di Gelfrey e soprattutto, visto che io e lui eravamo più di una settimana che non ci vedevamo più, mi ha chiesto se nel frattempo era migliorato e come stava. L'ultima cosa le chiedo, Avvocato, Pecorale è in carcere a San Donato a Pescara? Quando è stato trasferito da Ancona? È stato trasferito nella tarda mattinata di ieri.